erano le 8 e 25 del mattino quando maigret si alzò da tavola terminando di sorseggiare l'ultima tazza di caffè era solo novembre eppure la lampada era accesa alla finestra la signora maigret si sforzava di distinguere attraverso la nebbia i passanti che con le mani in tasca e le spalle curve si affrettavano al lavoro faresti meglio a metterti il cappotto pesante gli disse ne bastava infatti osservare le persone in strada per capire che tempo faceva fuori quel mattino tutti andavano svelti molti portavano la sciarpa camminavano battendo i piedi come quando ci si vuole scaldare e la signora megre ne aveva visti diversi soffiarsi il naso quando squillò il telefono il commissario aveva ancora la tazza in mano mentre alzava la cornetta guardò fuori anche lui le case di fronte erano quasi nascoste dalla nube giallastra calata sulle vie durante la notte pronto commissario megre sono du più del quartiere ternè curioso che a telefonargli fosse proprio du più probabilmente l'uomo più in sintonia con l'atmosfera di quel mattino du più era il commissario del posto di polizia di rue de l'etuale era strabico anche sua moglie era strabica e anche le tre figlie che megre non conosceva si diceva fossero strabiche era un funzionario coscienzioso con una tale smania di efficienza che ne faceva quasi una malattia vicino a lui persino gli oggetti diventavano tetri e pur sapendo benissimo che era l'uomo più buono della terra veniva spontaneo cercare di evitarlo senza contare che in genere d'estate come d'inverno aveva il raffreddore mi scusi se la disturbo a casa ho pensato che non era ancora uscito e mi sono detto non restava che aspettare la spiegazione sarebbe arrivata du più aveva immancabilmente bisogno di spiegare perché faceva questo o quello come se si sentisse sempre in colpa so che lei preferisce recarsi di persona sul luogo forse mi sbaglio ma ho l'impressione che si tratti di un caso molto speciale guardi che al momento non so nulla o quasi sono qui da pochi minuti anche la signora maigret aspettava con il cappotto in mano e per evitare che si spazientisse il marito le bisbigliò di più l'altro continuava con la sua voce monotona sono arrivato un ufficio alle 8 come al solito e alle 8 e 7 mentre davo una scorsa alla posta della mattina ho ricevuto una telefonata dalla donna di servizio è stata lei entrando nell'appartamento a trovare il cadavere è in avenue carnault a due passi per cui ci sono venuto subito con il mio segretario omicidio a rigore potrebbe passare per un suicidio ma per me è sicuramente un omicidio chi è una certa luis filon mai sentita nominare una donna giovane arrivo du più si rimise a parlare ma maigret facendo finta di non essersene accorto aveva già riattaccato prima di uscire telefonò al chede sorfevre e si fece passare la scientifica è arrivato moher sì me lo chiami pronto moher puoi andare con i tuoi uomini in avenue carnault un omicidio sì ci vediamo là gli diede il numero dalla casa si infilo il cappotto e qualche istante dopo un'ombra in più camminava a passi rapidi nella nebbia solo all'angolo di boulevard voltaire riuscì a trovare un tassi i viali intorno all'etuale erano quasi deserti i netturbini portavano via la spazzatura le finestre avevano ancora le tende chiuse e soltanto poche erano illuminate in avenue carnault un agente con la mantella era fermo davanti al palazzo non si vedeva però nessun assembramento nessun curioso a che piano gli chiese megret al terzo varcò il portone con i campanelli d'ottone lustri nella guardiola c'era la luce accesa e la portinaia beveva il caffè latte lo osservò attraverso la porta a vetri ma non si alzò l'ascensore come in tutti gli stabili bentenuti non faceva rumore e la guida sulle scale di quercia tirate lucido era di un bel rosso vivo al terzo piano si trovò davanti tre porte mentre si chiedeva a quale delle tre suonare si aprì quella di sinistra e megret si trovò di fronte a di più col naso rosso esattamente come se lo era figurato entri commissario ho preferito non toccare nulla mentre l'aspettavo non ho nemmeno interrogato la donna di servizio attraversarono l'anticamera dove c'erano solo due sedie e un attaccapanni ed entrarono in un salotto con le lampade accese la donna di servizio si è subito stupita di vedere la luce all'estremità di un divano giallo era accasciata in modo innaturale una giovane donna dai capelli bruni con una grande macchia rosso scuro sulla vestaglia le hanno sparato in testa il colpo sembra essere stato esploso da dietro a distanza ravvicinata come vede non è caduta si era semplicemente piegata sul lato destro con la testa abbandonata e i capelli che toccavano quasi il tappeto dov'è la donna di servizio in cucina mi ha chiesto il permesso di farsi una tazza di caffè a quanto dice è arrivata alle 8 come tutte le mattine alla chiave dell'appartamento appena entrata ha visto il cadavere afferma di non aver toccato nulla e di mi telefonato subito solo allora maigret capì che cosa aveva notato di strano arrivando di solito sin dal marciapiede doveva farsi largo tra un capannello dei curiosi e poi in genere i vicini sono appostati sui pianerottoli lì invece tutto era tranquillo come se non fosse successo niente la cucina di là si trovava in fondo a un corridoio la porta era aperta una donna vestita di scuro con capelli occhi neri era seduta vicino alla cucina a gas e beveva una tazza di caffè soffiandoci sopra per raffreddarlo maigret ebbe l'impressione di averla già vista da qualche parte aggrottando le sopracciglia prese a studiarla mentre lei sosteneva tranquillamente il suo sguardo senza smettere di bere era molto piccola tanto che da seduta i piedi toccavano appena terra portava delle scarpe troppo grandi per lei anche il vestito era troppo largo e troppo lungo mi pare di conoscerla le disse lei rispose senza batter ciglio è probabile come si chiama desiree braù il nome desiree lo mise sulla pista giusta anni fa non è stata arrestata per furto nei grandi magazzini anche per quello e per cos'altro sono stata arrestata tante di quelle volte il suo volto non tradiva alcuna paura anzi non tradiva nessuna emozione si limitava a guardare maigret a rispondergli ed era impossibile capire a cosa stesse pensando è stata in prigione troverà tutto nel mio fascicolo prostituzione le sembra strano molto tempo prima naturalmente adesso doveva avere 50 o 60 anni era rinsecchita i capelli non erano diventati bianchi nei grigi ma erano radi e lasciavano intravedere la cute una volta non valevo meno delle altre da quanto lavora qui farà un anno il mese prossimo ho cominciato dicembre poco prima delle feste ci lavora tutta la giornata solo dalle otto a mezzogiorno il caffè aveva un profumino così invitante che maigret se ne versò una tazza il commissario di più restava timidamente sulla porta ne vuole di più no grazie ho fatto colazione meno d'un'ora fa desire brou si alzò per prendersene un'altra tazza il vestito le ballava addosso la donna non doveva pesare più di una ragazzina di 14 anni lavora anche in altre case tre o quattro dipende dalle settimane vive da sola con mio marito anche lui è stato in prigione no mai si limita a vere non lavora sono 15 anni che non muove un dito nemmeno per piantare un chiodo nel muro lo diceva senza amarezza con una voce piatta in cui era difficile percepire ironia cos'è successo questa mattina la donna indicò di più con un cenno del capo non gliel'ha detto beh sono arrivato alle 8 dove abita vicino a place clichy ho preso il metro ho aperto la porta con la mia chiave ho notato che in salotto c'era la luce accesa la porta del salotto era chiusa sì di solito quando lei arrivava la sua padrona non era ancora in piedi non si alzava mai prima delle 10 a volte anche più tardi cosa faceva niente vada avanti ho aperto la porta del salotto e l'ho vista non l'ha toccata non ho mica avuto bisogno di toccarla per capire che era morta ha mai visto qualcuno andare in giro senza metà della faccia e dopo ho telefonato al commissariato senza chiamare i vicini o la portinaia al sole spalle perché avrei dovuto chiamarli e dopo aver telefonato ho aspettato facendo cosa senza far niente era tutto di una semplicità incredibile se ne era rimasta lì ad aspettare che suonassero alla porta forse a guardare il cadavere è sicura di non aver toccato nulla sicurissima non ha trovato una rivoltella non ho trovato niente il commissario di più intervenne abbiamo cercato dappertutto ma dell'arma non vi è traccia lui sfilò ne aveva una rivoltella se ce l'aveva io non l'ho mai vista ci sono mobili chiusi a chiave no allora lei dovrebbe sapere cosa c'è negli armadi sì e non ha mai visto armi no mai mi dica la sua padrona sapeva che era stata in prigione le ho raccontato tutto non aveva paura lo trovava divertente non so se lei ci fosse mai stata ma avrebbe potuto benissimo cosa vuol dire che prima di venire qui batteva il marciapiede come fa a saperlo me l'ha detto lei ma anche se non me l'avesse detto si udì uno scalpiccio sul pianerottolo e di più andò ad aprire la porta erano moher e i suoi uomini con i loro strumenti maigret disse moher non cominciare subito mentre io finisco qui telefona al procuratore desire braù lo affascinava come tutto quello che si intuiva dietro le sue parole maigret si tolse il cappotto perché aveva caldo si sedette e riprese a bere il caffè a piccoli sorsi si accomodi pure con piacere è piuttosto raro che una donna di servizio se lo senta dire e stavolta bozzò un sorriso a idea di chi potrebbe aver ucciso la sua padrona neanche l'ombra riceveva parecchie visite io non ho mai visto nessuno tranne un medico del quartiere una volta che aveva la bronchite ma è anche vero che me ne vado a mezzogiorno le risulta che avesse una relazione tutto quello che so è che in un armadio ci sono delle pantofole e una vestaglia da uomo e una scatola di sigari lei non ne fumava sa che sia quest'uomo non l'ho mai visto non conosce il suo nome non ha mai telefonato quando lei era qui qualche volta come lo chiamava la sua padrona pierrot lui la manteneva immagino che qualcuno doveva ben pagarle l'affitto no e pure il resto megrè si alzò posò la tazza e caricò la pipa cosa devo fare domandò lei niente rimanga qui tornò in salotto dove gli uomini della scientifica attendevano un suo cenno per iniziare il lavoro la stanza era in ordine in una coppetta accanto al divano c'era della cenere di sigaretta e anche dei mozziconi tre in tutto di cui due con tracce di rossetto una porta socchiusa metteva in comunicazione il salotto con la camera da letto e megrè notò con una certa sorpresa che il letto era disfatto e il cuscino presentava l'impronta di una rientranza come se qualcuno ci avesse dormito sopra il dottore non è ancora arrivato non è in casa la moglie sta telefonando ai pazienti che deve visitare in mattinata megrè aprì l'armadio e qualche cassetto gli abiti alla biancheria erano quelli di una giovane donna che veste con una buona dose di cattivo gusto e non quelli che ci si aspetta di trovare in un appartamento dei quartieri alti occupati tu delle impronte di tutto il resto moher io scendo a parlare con la portinaia il commissario di più si informò ancora bisogno di me no la ringrazio mi mandi il suo rapporto in giornata è stato gentile di più sa ho pensato subito che le sarebbe interessato se ci fosse stato un'arma vicino al divano avrei creduto un suicidio dato che il colpo sembrava esploso a bruciapelo di solito però le donne di questo tipo si uccidono col veronal sono almeno cinque anni che nel quartiere non vedo una donna suicidarsi con una rivoltella dunque considerato che non è stata trovata l'arma lei è stato formidabile di più cerco nei limiti del possibile di per le scale continuava a parlare megrè lo pianto in asso davanti alla porta della guardiola dove entrò buongiorno signora buongiorno commissario sa che sono la donna fece segno di sì l'hanno informata ho chiesto alla gente che è di guardia sul marciapiedi mi ha detto che è morta la signorina louise la guardiola aveva l'aria lustra come tutte quelle del quartiere la portinaia di appena una quarantina d'anni era vestita dignitosamente addirittura con una certa civetteria del resto era belloccia aveva solo lineamenti un po appesantiti l'hanno uccisa chiese mentre megrè si sedeva vicino alla finestra cosa glielo fa pensare se fosse morta di morte naturale credo che la polizia non si sarebbe scomodata avrebbe anche potuto suicidarsi non era nel suo carattere la conosceva bene non molto non si tratteneva nella portineria passando si affacciava appena per chiedere se c'era posta non si sentiva tanto a suo agio in questa casa capisce vuol dire che era di una classe sociale diversa da quella degli altri inquilini esatto a quali ambienti apparteneva secondo lei non saprei dire con certezza non ho motivo di parlarne male era una persona tranquilla per niente arrogante la donna di servizio non le ha mai raccontato niente non ci rivolgiamo la parola conosce la signora braù non ci tengo affatto la vedo salire e scendere e mi basta lui sfilò nera una mantenuta può darsi in ogni caso pagava puntualmente l'affitto riceveva visite ogni tanto non regolarmente no non si può dire regolarmente a me gre sembrò di percepire una certa reticenza diversamente della signora braù la portinaia era nervosa e ogni tanto gettava una rapida occhiata alla porta vetri fu lei ad avvisarlo sta salendo il dottore mi dica signora mi scusi come si chiama corné mi dica signora corné c'è qualcosa che sta cercando di nascondermi la portinaia si sforzò di guardarlo negli occhi perché mi fa questa domanda così preferisco saperlo era sempre lo stesso uomo che andava a trovare lui il filon vedevo passare sempre lo stesso che tipo di uomo un musicista come fa a sapere che era un musicista perché una volta o due l'ho visto con una custodia da sassofono sotto il braccio ieri sera è venuto sì verso le 10 gli ha aperto lei no finché non vado a letto cioè circa le 11 lascio il portone aperto ma lei riesce a vedere chi entra in genere sì qui abita gente come si deve quasi tutte persone importanti dice che il sassofonista in questione è salito verso le 10 sì è rimasto solo una decina di minuti e quando è uscito sembrava di fretta l'ho sentito incamminarsi a passo spedito verso l'etual non ha visto che faccia aveva se appariva scosso no ieri sera lui filon non ha ricevuto altre visite no quindi se il medico scopre che il delitto è stato commesso tra le 10 e le 11 molto probabilmente non ho detto questo ho detto che ha ricevuto solo quella visita secondo lei il musicista era il suo amante la portinaia non rispose subito poi sussurrò non lo so cosa vuol dire niente pensavo al costo dell'affitto capisco non è il genere di musicista che potrebbe pagare un appartamento simile alla sua amichetta proprio così il fatto che un'inquilina del suo palazzo sia stata uccisa non pare stupirla non me l'aspettavo ma neanche mi stupisce perché per nessuna ragione in particolare mi sembra che quelle donne lì siano più in pericolo di altre e in ogni caso è l'impressione che si ha leggendo i giornali senta dovrebbe farmi la lista di tutti gli inquilini che ieri sera sono entrati o dopo le 9 apprenderò dopo andando via non ci vorrà molto quando maigret uscì dalla portineria vide il procuratore il suo sostituto che scendevano da un'auto assieme al cancelliere avevano tutti e tre l'aria infreddolita la nebbia non si era ancora dissipata e ognuno vi aggiungeva il vapore del proprio alito strette di mano ascensore nel palazzo terzo piano a parte regnava la stessa tranquillità di quando maigret era arrivato gli inquilini non erano tipi da postarsi dietro le porte socchiuse per vedere chi saliva e chi scendeva né da uscire sul pianerottolo perché una donna era stata uccisa i tecnici di mohair avevano piazzato i loro strumenti in ogni angolo dell'appartamento e il dottore aveva finito di esaminare il cadavere diede la mano a maigret a che ora chiese il commissario a prima vista tra le nove e mezzanotte direi piuttosto le undici che mezzanotte immagino che la morte sia stata istantanea la vista il colpo è stato sparato a bruciapelo da dietro da dietro un po lateralmente con ogni improbabilità in quel momento stava fumando una sigaretta che è caduta sul tappeto e si è consumata fino a spegnersi è un miracolo che non sia scoppiato un incendio di cosa si tratta esattamente chiese il sostituto procuratore che non sapeva ancora nulla non lo so forse un delitto banale ma non mi convince ha qualche idea no vado di nuovo a parlare con la donna di servizio prima di andare in cucina maigret telefonò al che desorfevre e chiese a lucas che era di turno di raggiungerlo subito poi non si occupò più dei magistrati della procura né degli esperti che continuavano a fare i soliti rilevamenti la signora braù non si era mossa non beveva più caffè ma fumava una sigaretta cosa che visto il suo fisico sembrava strana non le dà fastidio vero disse seguendo lo sguardo di maigret questi le si sedette di fronte mi racconti cosa devo raccontarle tutto quello che sa gliel'ho già detto come trascorreva le giornate lui fillon posso solo dirle quello che faceva al mattino si alzava verso le 10 o meglio si svegliava perché non si alzava subito le portavo il caffè lei lo beveva a letto mentre fumava e leggeva cosa leggeva riviste romanzi spesso ascoltava anche la radio avrà sicuramente notato che ce n'è una sul comodino non faceva telefonate verso le 11 tutti i giorni quasi tutti i giorni a pierrot sì a volte a mezzogiorno si vestiva per andare a pranzo fuori ma abbastanza raramente in genere mi mandava in salumeria a comprare affettati o cibi pronti non hai idea di come trascorresse il pomeriggio immagino che uscisse doveva bene uscire perché la mattina trovavo le scarpe sporche di sicuro andava per negozi come tutte le donne non cenava a casa dei piatti sporchi ne lasciava di rado crede che raggiungesse pierrot lui o qualcun altro è sicura di non averlo mai visto sicurissima non ha neanche visto altri uomini solo l'impiegato del gas o un fattorino da quant'è che non va in prigione sei anni non si diverte più a rubare nei grandi magazzini non sono più abbastanza svelta stanno portandovi il corpo si udivano rumori in salotto e in effetti erano gli uomini dell'istituto di medicina legale non se l'è spassata per molto cosa vuol dire che ha avuto una vita grama fino a 24 anni e poi ha fatto la signora solo per due anni si è confidata con lei chiacchieravamo come tutti gli esseri umani le ha parlato delle sue origini è nata nel diciottesimo arrondissement vale a dire in mezzo alla strada ha quasi sempre abitato dalle parti di boulevard la chapelle quando è venuta a stare qui pensava di essersi sistemata non era felice la donna al sole spalle guardando maigret con una certa compassione quasi sorpresa che lui dimostrasse così poco acume crede che per lei fosse bello vivere in una casa come questa dove gli altri non la degnavano di uno sguardo quando la incrociavano per le scale perché è venuta ad abitarci avrà avuto le sue ragioni era il musicista che la manteneva chi le ha parlato del musicista non importa pierrot fa il sassofonista credo di sì so che sono in un dancing gli diceva solo quello che voleva lei adesso che maigret si era fatto un'idea un po più precisa di che tipo di donna fosse lui sfilò era sicuro che al mattino padrona e domestica chiacchierassero a cuore aperto non penso che uno che suona in un dancing sia in grado di pagare l'affitto di un appartamento come questo neanche io quindi quindi doveva esserci qualcun altro ieri sera pierrot è venuto a trovarla la signora braun non si scompose continuò a guardarlo dritto negli occhi sicché lei avrà concluso che è stato lui a ucciderla posso dirle soltanto una cosa si amavano gliel'ha detto lei non solo si amavano ma il loro unico sogno era quello di sposarsi perché non l'hanno fatto forse perché non ne avevano i mezzi o forse perché l'altro non la mollava l'altro ma sa benissimo che parlo di quello che tirava fuori i soldi insomma devo proprio dirle tutto io a maigret venne un'idea andò nella camera da letto e aprì l'armadio vi trovò un paio di pantofole da uomo di capretto lucido confezionate su misura da un calzolaio di rue santo norè uno dei più cari di parigi togliendo dall'appendiabiti la vestaglia che era di una pesante seta marrone riconobbe l'etichetta di un camiciaio di rue de rivoli gli uomini di mohair se ne erano già andati mentre mohair aspettava il commissario in salotto cosa hai trovato delle impronte naturalmente vecchie e recenti di un uomo di uno senz'altro avremo i risultati tra un'ora passali allo schedario prendi queste pantofole e questa vestaglia appena arrivi al che dalle a janvier o a torrance perché le mostrino ai negozianti che le hanno vendute per le pantofole immagino che sarà facile c'è scritto un numero d'ordine nell'appartamento era tornata la calma negreando in cucina dalla donna di servizio non c'è più bisogno che lei resti qui posso fare pulizia per oggi no e cosa faccio vada a casa le proibisco di lasciare alla città forse ho capito non ha proprio nient'altro da dirmi se mi viene in mente qualcosa glielo farò sapere un'ultima domanda è sicura di non essere uscita di qui nei minuti intercorsi tra la scoperta del corpo e l'arrivo del commissario di polizia lo giuro e non è venuto nessuno manca un cane la donna andò a prendere una borsa che di sicuro si portava sempre dietro e maigret si accertò che non contenesse la pistola mi perquisisca se ci tiene non la perquisì ma per scrupolo e con un certo imbarazzo le passò le mani sul vestito troppo largo un tempo ci avrebbe provato gusto la donna se ne andò e sulle scale dovette incrociare lucà che arrivava con il cappotto e il cappello bagnati piove da dieci minuti cosa faccio capo non saprei preferirei che rimanessi qui se telefona qualcuno cerca di scoprire da dove chiama può darsi che telefonino verso le 11 avvise i colleghi di metter la linea sotto controllo e continua a rovistare dappertutto l'hanno già fatto ma non si sa mai di cosa si tratta esattamente di una che batteva dalle parti di boulevard barbè a cui qualcuno ha messo su casa a quanto ne sappiamo aveva un amico del cuore che suonava in un dancing l'ha uccisa lui è venuto a trovarla ieri sera la portinaia dice che non è salita nessun altro abbiamo i suoi dati segnaletici scendo a interrogare di nuovo la portinaia la donna era occupata a smistare la posta a suo dire pierrot era un giovane sulla trentina biondo e robusto che sembrava più un garzone di macellaio che un musicista non ha nient'altro da dirmi nient'altro commissario se mi viene in mente qualcosa glielo faccio sapere strano più o meno la stessa risposta della donna di servizio era convinto che nessuna delle due certamente per ragioni diverse che avesse detto tutto quello che sapeva poiché gli toccava arrivare almeno finale toal per trovare un tassi alzò il vavero del cappotto e si incamminò con le mani in tasca come i passanti che quel mattino la signora maigret aveva visto dalla finestra la nebbia si era trasformata in una pioggia sottile e fredda il commissario provò una sgradevole sensazione di freddo nelle ossa ed entrò nel piccolo bistro all'angolo per bere un grog grazie a tutti